Alverio Antonelli L'antrema destra ha intercettato, annientato e disarmato una postazione di mercenari al servizio della repressione. Dovreste fare il salto di qualità e per farlo mi serve l'appoggio di chi conta. I terroristi sono l'ultimo anello di un'insana catena che tiene unita, la massoneria, la malavita organizzata e i servizi segreti deviati. Bisogna destabilizzare le pagine dello Stato, dare un'immagine di precarietà, di ingovernabilità. Seminare il panico è questo quello che dobbiamo fare. Giù di sé! Grazie a tutti!